Allora l'opage, questa è la cucina, questa è la porta per uscire, ok? Cucina. Allora io quello che ci vorrei fare è, qui lo vedi che c'è un frigorifero, c'è, te lo vi faccio vedere, ok? Guarda, l'escaldamento qua. Qui ci vorrei fare, ora vado a sinistra, entro e vado a sinistra, qui c'è una lavatrice, qui cosa ci vorrei fare, ci vorrei mettere la porta d'ingresso alla scala, ok? Ti faccio vedere poi come si fa, ti faccio rivedere poco a poco, ok? Quindi questo qui ci tolgo tutto, eccetto la porta, anziché la finestra. Ora usciamo, passiamo di nuovo dalla cucina, questa è la cucina. Ora esco, vado a destra. E allora? Qui siamo fuori. Vedi c'è tutto il bordello perché ci stiamo costruendo, c'è materiale di costruzione, vedi c'è, ok? Ti faccio vedere fuori. Quindi questo è il giardino nostro di qua. Questo è il passaggio qui. Il passaggio è qua. Questo è il passaggio. Ok, e qui siamo di nuovo dentro la parte nostra. Passaggio, nuovamente. Giro a 180 gradi. Passaggio, ok? Rientro di nuovo alla nostra proprietà. Qui siamo fuori. Ti faccio vedere quello che c'è. Quindi sempre nella mia proprietà. Vedi, sulla sinistra qua c'è il passaggio. Nuovamente dove ci sono questi mattoni c'è il passaggio. In fondo c'è il passaggio. Qui questa è l'area dove costruiamo, dove abbiamo fatto la base. Le fondazioni ce ne sono state fatte. Ora, questo è l'edificio esistente. Te lo faccio vedere, aspetta che te lo faccio vedere. L'edificio esistente è qua. Questo è l'edificio esistente. Ora la porta. Dove sono io però ci viene la scala. Ora la porta io la vorrei fare d'ingresso qua. Questa è la finestra dove c'è la lavatrice. Qua. Qua. Vedi che qui c'è questa rientranza. Vedi i disegni, eh? Io la porta ce la vorrei fare qua. Esattamente dove c'è sta finestra qua. Ok, quindi questa è una porta di entrata. E poi qui, dove c'è questa rientranza, ci facciamo un muro. Da qua fino all'altra parte. In modo che qui c'è una porta di entrata esterna e una porta di entrata interna da là. Quindi si può entrare esternamente e internamente da là. Ok? Spero che lo capisci. In modo che questo fabbricato di qua poi fuori mi risulta come una parte che è della casa. Una parte proprio che è della casa e che è dipendente dalla casa eppure la posso affittare come se fosse una parte indipendente perché c'è una porta d'ingresso qui, da qua, da fuori. Quindi c'è una porta d'ingresso da dentro la casa e una porta d'ingresso da fuori della casa.